Ciao navigatori, per tutto il mese di ottobre i racconti del pozzo pubblicherà contenuti attinenti alla festa di Halloween, tradizioni celtiche ma anche racconti e leggende di casa nostra e inoltre alcune storie horror ideali da ascoltare o leggere il 31 ottobre, la notte più spaventosa dell'anno. Non mancare se anche tu come me ami questa festività nel suo lato più pagano e mistico. Grazie